Giuseppe Zeno festeggia oggi l'anniversario con la moglie Margaret. I due stanno insieme da diversi anni e continuano ad amarsi moltissimo. Non ci sono dubbi, Zeno è tra gli attori più amati del momento. Sono tante le fiction che, negli ultimi anni, sono riuscite a mettere in risalto il suo talento. La coppia portata in scena con Serena Rossi in Mina Settembre ha fatto sognare i fan. Quante sono pazze del dolce ginecologo Domenico? La terza stagione di Mina Settembre tornerà su Rai 1 con tante novità. La conferma più bella è proprio legata ai due protagonisti. Giuseppe sarà presente anche questa volta. L'attore non smette di appassionare il suo pubblico con tanti ruoli, tutti diversi. Questa la dimostrazione di quanto Zeno sia in grado di approcciarsi a qualsiasi tipo di progetto. Giuseppe Zeno innamoratissimo della moglie, la dolce dedica. Essere così amati e acclamati è di sicuro gratificante per i sacrifici ed il lavoro svolto. Giuseppe è probabilmente l'attore che, più degli altri, continua ad essere protagonista delle fiction sia Rai che Mediaset. Talento e grande determinazione gli hanno permesso di ottenere il successo sognato. Questo è il momento di dimostrare al suo pubblico, quanto sostenerlo da sempre, sia stata la scelta giusta da fare. Anche la sua vita personale e professionale però, è ricca d'amore. Zeno è sposato con l'attrice Margaret Madele nel 2016 e insieme hanno messo al mondo due splendide femminucce, Angelica e Beatrice. Ma li abbiamo mai visti sul set insieme? Durante la prima puntata di Blanca, la coppia ha condiviso la scena, un momento di sicuro molto romantico. Giuseppe festeggia oggi l'anniversario con la moglie e in occasione di questa giornata speciale, ha condiviso una foto dolcissima con una dedica. Tra le sue parole, navighiamo da otto anni, con il sole, con il freddo, la tempesta e la calma piatta. Prua dritta senza timore della tempesta. Buon anniversario a noi. Da questa dedica tenerissima si evince una forte complicità che lega i due attori, dopo anni ancora così innamorati. Siamo in un momento in cui tante coppie appartenenti al mondo dello spettacolo stanno comunicando ai fan la fine del loro matrimonio. Assistere al trionfo dell'amore è per questo motivo di sollievo. Giuseppe, nonostante i tanti impegni e i set che lo reclamano, continua ad essere super presente nella vita della moglie e delle figlie. Queste ultime rappresenteranno per sempre una priorità importantissima. Una delle due deciderà di intraprendere la strada dei genitori. Giovanissime, hanno ancora davanti a loro tante scelte e decisioni da prendere. Di sicuro papà Giuseppe e mamma Margaret, faranno da sostegno motivazionale in ogni caso.